Porca miseria che caldo! Ciao a tutti fringuelli! Allora oggi parleremo dei controlli da effettuare prima di ogni giro ad esempio nelle mie ultime due uscite io ho avuto problemi alla sella perché? Perché sono un pirla, perché non ho controllato il giusto serraggio dei dadi della sella quindi mi sono dovuto fermare un paio di volte a regolarla. Allora cerchiamo di capire che cosa occorre controllare quando si utilizza la nostra bicicletta una sorta di check up molto veloce. Allora innanzitutto la sicurezza, i freni, controllate i freni, questo vale sia per impianti rim, dual pivot, chiamateli come vi pare o a disco. Andate a controllare l'usura delle pasticche, assicuratevi facendo una prova a vuoto che ci sia tensione del cavo dell'impianto idraulico che la ruota si fermi, che non ci siano rumori strani quindi anche che la ruota sia in asse e di conseguenza anche il cerchio cercate di vedere anche se c'è della sporcizia, magari sporcizia oleosa sia sul cerchio che sul disco e in quel caso andatela a pulire dopodiché andate a vedere la catena, guardate se è lubrificata, se è sporca, se ci sono delle fratture tra le maglie della catena e in base anche al chilometraggio della vostra catena cercate di capire anche se non sia il caso di sostituirla comunque diciamo che per un controllo abbastanza superficiale quello che dovete semplicemente controllare è che le maglie della catena scusate, non siano rovinate. Dopodiché passate a controllare ruote e pneumatico la ruota in particolare se è in carbonio come questa e soprattutto se fate un uso molto intenso e accidentato della vostra bicicletta come su questa grave, la andate a controllare se il cerchio e i raggi hanno delle malfatture cioè se hanno delle rotture, delle botte, se hanno preso dei colpi perché soprattutto per la ruota in carbonio questo potrebbe essere un problema altra cosa, controllate anche lo scorrimento del cuscinetto, questo non è un controllo diciamo così molto necessario da fare però se ogni qualvolta andate a fare il check up della ruota e del pneumatico e date anche un colpo di ruota per vedere come scorre male non fa. Poi si controlla lo stato di usura del pneumatico, andate a vedere la spalla, se la gomma è in buone condizioni cioè se non è crepata, andate a vedere l'usura del pneumatico e soprattutto il gonfiaggio altra cosa particolare che non molti fanno è controllare questo piccolo serraggio, il serraggio della serie sterzo cioè assicuratevi che ci sia la giusta tensione su questo espander perché ne potrebbe ovviamente risentire tutta la vostra serie sterzo e di conseguenza anche la guidabilità della vostra bicicletta. Controllate poi il serraggio di tutta la minuteria della serie sterzo come abbiamo detto della sella, ma attenzione anche del movimento centrale, assicuratevi che le boccole della guarnitura siano ben serrate, assicuratevi che i pedali siano stretti perché a volte, a me è capitato, soprattutto su terreni molto accidentati di avere qualche problema, quindi un controllo anche nella parte del movimento centrale dei pedali della guarnitura non guasta mai. Infine, gli ingranaggi. Quando andate ad osservare la catena fate una passata anche sul pacco pignoni, sui denti della guarnitura e perché no, ecco guardate, mi è entrato un filaccio dentro il deragliatore. Andate a vedere che tutto sia in ordine che la cassetta pignoni sia perfettamente allineata, che non ci siano denti rovinati che risponda bene, che sia allineato anche tutto il deragliatore. Ora in questo caso io non ho il deragliatore anteriore perché questa è una trasmissione 1x, però fate un controllo anche sulla meccanica della trasmissione. Insomma, prima di uscire in bicicletta, questi sono controlli molto veloci. Prendete un pochino di tempo per assicurarvi che il vostro mezzo sia sicuro e sia soprattutto idoneo a portarvi lontano ma soprattutto a farvi divertire. Ok fringuelli, per oggi direi che è tutto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buona, veramente alla prossima. Ciao!